E ciao a tutti ragazzi, qui è la carta di parla e bentornato in questo nuovissimo video di Arsenal ragazzi La modalità che mi sta facendo abbastanza impazzire su Roblox E il volume qua ce l'ho, andiamo a vedere di nuovo a Trebala Allora, io direi ragazzi che possiamo subito iniziare e subito andare a combattere Che noia, una partita è già iniziata Eh, va bene, non ce la faremo andare bene E ne ha dato poco prima lui, ne ha dato poco prima lui però forse fa tutto No, perché non ho preso fuori, maledetto Dai, dai, dai Dai, fatelo l'assist, mi prego Maledetto, no, adesso no, non farò l'assist Sì, vabbè, è la partita che ho iniziato Ok, ho fatto l'assist Non c'è nessuno Oh, no, maledetto, solo due colpi, eh, vabbè Eh, potrei entrare da qui direttamente Dai, vai, 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 vai Maledetto, non hai già ragione Oh, dai Come lo faccio a uscire, cioè, ho accolto la... Addirittura regredito di arma, eh? Addirittura Non sembra esagerato Mmm, facciamo un po' di gioco a sole Sì, va bene, basta ci vero però almeno che non riesco a ammazzare nessuno bene ok almeno ora cosa mi ha saltato addosso era tutta una mappa perché a me è sembrato tutta la mappa no sbaglio vabbè ci abbiamo oh che noia questo fa poco d'amano che mi faccio ho pompa e cioè vabbè con un pompa c'è riuscito a uccidermi con un mitragliatore e io col pompa no ok d'accordo comunque è morto a bp però non mi serve a niente vabbè allora adesso allora come fai a uccidere da uno col gol del knife in questa maniera cosa fai ti sei accorto che hai perso vabbè facciamo subito un'altra partita che non si è già iniziata quindi facciamo kitchen chaos standard 4 team 4 team lo preferisco perché in kitchen chaos è più divertente 4 team però adesso staremo a vedere quale vincerà perché mi sa che vincerà due team ha vinto due team a maledizione beh mi metto rosso adesso e no non so perché non può essere rosso perfetto ok iniziamo già con quest'arma ottimo allora per me questo è già una kill fatta perché io quest'arma qua c'è un sacco di uccisioni c'è nessuno si un sacco di uccisioni quando c'è la gente però è tipo inizia non dovrei prendere la cura ok e in più ho questa facendo finta che sono tipo esplose malissimo questa è la pizza devo spostarmi in effetti beh ce l'ho anche io la pizza quindi è poco più amante di me non so cosa mi abbia fatto esplodere voglio dire chi è che si è fatto uccidere così tante volte per far arrivare così avanti le persone come ho fatto un palazzo non ho cambiato l'arma ho fatto l'ordinazione vabbè amen sono sbagliato non ho visto il danno no l'arma con la ripetizione che cazzo ma forte forte vabbè ricarica anche è morto? no no caro ti ho ucciso io assist ti ho ucciso io ok maledetto allora questo è meglio che ricarico questo è il windigator cavolo continuo a fare avanti e indietro ok è morto nail gun perfetta anche questa io l'amo ragazzi è fortissima non è che l'amo è proprio fortissima e lo so anche usare ecco bene sì ma non ce l'ho vai 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 ok perfetto morto adesso abbiamo il launcher rocket launcher sì esatto quello da 4 sì questo è quello da 4 ok ok grazie 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 non l'ho ma lo faccio per la patria comunque potrebbe che mi ha parlo ok ok ragazzi ok stiamo andando molto bene non è vero stiamo facendo skip in realtà l'altra volta stavo andando meglio è male che non c'è il danno da oh che cosa vuole questa perché questa leccia fanno esplodere in qualsiasi momento della sua vita forse ci siamo perdonati o lato o lato sopra non è il bomba ok se tu sei tu e che loro spawneranno di là e che loro spawnano nel lato opposto in cui siamo noi eeeh da dove non è mai il board of night spero che ve lo sta tutta l'anno è impossibile ma infatti è al 9 in teoria ok l'ho preso dai 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 mi sono fatto una mano infatti dai dai si scoppa ok ok dai 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 di nuovo la pizza con la seconda donna che poi ho la seconda di un crossover quella lì gioco grazie è stato molto triste il combattimento però no l'M1 Garand questo non lo sa usare neanche il rap è fin ecco anche l'UX l'M1 Garand è sempre qualcuno con il cuore madonna ok ok no ho visto il razzo potevo schivarla qua è stato un errore grossissimo è mio anche il mio errore beh ovviamente è stato un errore ah potevo schivarlo a questo punto è già con la pistoletta che tipo scrausa come non so cosa no quella che tipo ti fai salire no eh troppo complicato no 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 oh invece si posso spaccare i due retri stati veri stati veri no maledetto si è ha preso l'arma in tempo altrimenti l'avete ucciso si cosa è con il trame non so di più ma si siamo qui per vincere si si probabilmente si cosa sta facendo come abbiamo vinto vabbè abbiamo vinto allora io mi metto a festeggiare non ho emoto perché tipo non me ne frega niente ho preso la skin non è che l'ho comprata perché in realtà i soldi te li da vincendo ad esempio guarda guardate eccolo qua boom 35 di soldi e cos'è cubic? ah quando muori quando uccidi qualcuno cavolo ne ho 800 ma cavolo o ice o cubic ma dai mi prendo ice cavolo dai prendo ice ok così adesso quando uccido qualcuno diventa ghiaccio in teoria bella sta mappa sta mappa è bella no lo vedete quello rosso il primo dei rossi no è il secondo quello che hai incontrato io una volta maledetto maledetto quello là che fastidio ok no eh si l'ho già incontrato io quello però è nella nostra squadra che pare che i più forti in squadra non è che mi esulta eh esalta siamo morti tutti e due siamo uccisi a vicenda praticamente ti pare che non voglio incontrarlo allora che armai sta la calabine ah ma c'è dove che salto? e io in tutto questo tempo non lo sapevo adesso perché l'ambiente mi uccideva? ok adesso mi ha dato un po' di armi si l'armi questo ha usato tutto il lato di casa sua per divincere ok ok col doppio salto ragazzi è un'altra storia mi dispiace mi dispiace non è un'altra storia col doppio salto oddio non sembra ma cambia molto però ce ne hai un tot tipo adesso questo non mi lo fa più o solo certe armi che lo permettono forse non mi lo fa più ma forse che ne hai un limite perché se no sarebbe tre cose mamma mia l'avevo anche colpito del resto vabbè vabbè assomigliare di più ho conquistato lo spawn a counter strike guardate le mappe se guardate sono quelle ma non le ho fatto ecce le ho fatto 600 massa direi ho troppo esagerato per nada così ma da dove spawnano loro che danno tutti i punti noi cioè sono tutti qua quindi loro dove spawnano cioè ci siamo veramente rincorrendo rincorrendo per vabbè no cavolo no maledizione per fare sì vabbè non sto indietro come un sciacosa ma quello aveva una roba dove questo ride no io non credo va bene ah questo è quello colmenino sì ok ok perfetto eh no dove scusa dov'è quella roba sì di cosa che mi ha permesso di andare lì eh so anche usare lì perché ben ti sa ma quello cioè è arrivato con un multisalto cioè eh vabbè ma saranno quelle cose tipo in vegeti bif così e con un multisalto vai questo è bellissimo mi piaccio so come star ma dai sbrigati ma dai prendi sto coltello così colpi veloce o no di guerra poi sarei io però comunque a questo sarei io pum uccido l'M1A1 paratrooper già mi ispira molto ma se ce l'ho fatta posso al coltello potremmo uccidermi ok no ce l'ho fatta ce l'ho fatta ok beta beta patrita sta andando già meglio aspetta qua possono arrivare eccole qua infatti aspetta no io ho l'arma questa non la so usare mi dispiace mi dispiace ma qua uso coltello eh me lo lascio usare 5 mi sa che c'è tipo un trampolino mi ha giocato che parte in questa mappa cioè no in questa mappa in una mappa in un trampolino aspetta 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 ah potete passare perché avete visto quanto ha saltato non c'è l'era 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 no l'era l'era l'armador ragazzi non è con la finale cioè semifinale questo è il potassio in power potere del potassio no è vero questo è un caricatore misero sì è un caricatore di criceto no quanto danno ho fatto assist è io assist è è buon 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 no no mi ha ucciso con l'armador no no vabbè niente proprio allora devo stare attento a quello sì ma c'è un cecchino eh ovviamente ma chi è che si è fatto uccidere vi prego eh comunque ragazzi terzo eh comunque adesso facciamo l'ultima partita veloce veloce buongiorno a lei la ballo davanti a casa ehm facciamo l'ultima velocissima e quanto so devo fare l'altro eh gran pochi allora io non ho visto tra l'altro ehm emote ah kill effect decolo qua ah confer ah devo metterlo beh qua non c'ho all butterly ah allora mi metto questo default ah qua ci sono di varie lingue ci si apre da ok go back no 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 sto mappa mi fa schifo mi fa schifo non trovo mai nessuno in questa mappa e quando la trovo muoio quindi no vi prego vabbè facciamo finta che questa sia la mappa più bella del gioco ok beh ora è diventato un ghiaccio è già meglio guarda che bello che è così posso vantare ah 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 no scherzo vabbè uccidi te oh che bello che bello che bello ma tu non mi sopporto molto vai eh no va va ma mi chiede sempre dietro ok 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 dai basta no devo riparcare mai detto non l'ho mai detto no ma mai una volta la coltura ok eh stanno però non vi fa affazzire perché sia un'arma laser sono sempre belle le armi laser venerà anche quelle però vuoi farmi scontro a coltello? vuoi farmi scontro a coltello? io lo vedo io allora è poi è un'esplosione però è un'esplosione che bello che mi ha ucciso questo si è appena fatto saltare in aria per volare in alto ah ecco cosa questo prima che è un battito non mi ricordo perché se no ho usato quello si troppo ha bruttato bella la sua animazione quando mi uccide ho trovato tempo è un bomb brand mi sono da un discorso all'altro oh ziz questo primo no ma come mi ha ucciso che era morto? scusa ok si 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 questo è il mag e questo è il pompa dai l'ho ucciso cosa? ma l'ho ucciso ah ok si sono ucciso a vicenda praticamente e mi è anche già capitato non che li uccidessero da niente ma proprio a vicenda dai perfetto però senti uno spara è sempre bene all'oltanarsi tutto c'è il pompa quello bello quindi è più avanti di me ok eh ma quanto si è in questo? va bene adesso recupero cercherò di recuperarlo il razor bomb qua è fortissimo si però se sono circondato è un po' meno forte ah se vede che in questa mappa faccio schifo in questo lì prima era già meglio ce l'ho fatto perso no amico si vabbè ma questo si è appena fatto uccidere da un coltello ma ha vinto cioè che stiamo sentendo e questo tra l'altro è un appo che non sa neanche come si cioè come cambiare appo probabilmente perché l'avete visto che ne andava basso solo con il coltello perché probabilmente è uno nuovo anche se in realtà ha una skin particolare potrebbe aver fatto qualche evento perché solito danno queste cose uno si è appena suicidato mi sa che ne andavano i nostri aveva la stessa arma maledizione ha vinto lui non sa come però mi ha dato l'assist no non mi ha dato l'assist ce l'ho tolto 50 di vita e mi ha dato l'assist ma non ha senso allora per dare l'assist se tu toglie la maggior parte della vita è un altro uccide ma cosa si è anche esploso l'avete visto si è anche esploso è anche esploso marono va senti va almeno questo almeno questo mi lo lascerai fare eh vabbè questo si è girato ho sparato mi ha preso in testa probabilmente perché come ho detto poi dovrei girarmi negli angoli andando piano no però vabbè io ho preso perché ok questo è andato questo questo vabbè anche lui è andato madonna oh no diudio questa parte non l'avevo mai vista ecco a testa perché non ero mai andato dietro le scale effettivamente parlando vai mamma mia ragazzi vai ragazzi per questo video tutto è andato con i peggiori lato non è andato anche troppo spero che questo video che sia piaciuto abbiamo fatto un sacco di altre partite e siamo arrivati anche a bambini di un'altra posizione tranne ora che stiamo facendo un po' schifo sto facendo un po' schifo come vi ho già detto questa mappa neanche la conosco e ciao ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao